e dopo aver ricevuto questo miracolo non mi resta che affidarmi a professionisti siamo in via Mezzacapo Palazzo Sant'Antonio, Luke Center, venite con me eccoci qui, da Luke Center come vi dicevo, devo raggiungere un professionista, ciao Tonino come stai? Ho visto che già mi stai guardando un poco strano hai ragione, sì perché il miracolo che ti hanno fatto penso che sia venuto malissimo, non mi dona questo rosso, allora Tonino con le luci ancora di più allora immagino che cosa stanno vedendo da casa, il tema non proprio questo, allora Tonino io ho bisogno di te, mi raccomando dalla tua professionalità e dalla tua esperienza per riportarmi di nuovo, bello come prima lo spero, proprio nel posto giusto penso e speriamo di fare le cose per bene, senza miracoli eccessivi perché questa è la tua professione, la mia professione quindi non c'è bisogno del miracolo. E allora andiamo sotto i ferri di Tonino Giugno Tonino, questo taglio e questo capello me lo devi giudicare tu com'è? Com'è? Non è adatto assolutamente a te, né il colore né il taglio. Perché il taglio vuole il suo volto? I suoi caratteri somatici e la sua morfologia, quindi tu dovresti portare un, parte il colore che è una cosa indescrivibile, può essere in tema natalizio però comunque è un po' troppo spento. Quindi colore e taglio adatti al tuo viso naturalmente e affiancarti alle nuove tendenze che ci sono adesso e che sono i classici bob, capelli riportati indietro molto alti, sfumature alte, segni e righe praticamente segnate dalla lametta o dalla macchinetta piccola. Quindi andiamo lì a posizionare un taglio e una acconciatura e un colore soprattutto adatti al tuo viso. E allora mi affido alla tua professionalità, vediamo che cosa ne esce, dai. Ok, via. A che punto siamo Tonino? La prima cosa che abbiamo fatto abbiamo tolto il colore che era una cosa praticamente da non vedere. Adesso proseguiamo col taglio e poi la seconda sorpresa. Allora Tonino ci avviamo alla conclusione? Sì, questa penso che sia la seconda e la terza fase poi in finale sarà una sorpresa. Quindi manca la sorpresa. Procediamo. Questa era la sorpresa, benissimo. Tonino mi hai salvato. Allora adesso per gli auguri ci dobbiamo alzare. E dallo staff di Look Center, auguri a tutti!